Il corpo gioca golf con il preparatore atletico Mauro Bertoni e il maestro Riccardo Serafini. Presentiamo un esercizio per la mobilità dell'anca. Eccoci qua, il nostro paziente tra virgolette disteso su un fianco con le ginocchia piegate. Il primo movimento che proponiamo è quello di sollevare il ginocchio senza spostare il piede alla sua poscia. Esattamente. Bene, lavoriamo in extra rotazione con la coscia, interveniamo con i muscoli della parte glutea, prepariamo anche il secondo successivo, stessa gamba. Questa volta il ginocchio rimane fermo e si muove soltanto la gamba con il piede, si stacca dall'altro piede. Bene, questo movimento lo manteniamo anche nella terza variante, solleviamo leggermente il ginocchio e facciamo lo stesso movimento con l'anca in rotazione interna come prima e il quarto prevede una posizione leggermente diversa con il ginocchio in linea con l'anca e stesso movimento previsto per quanto riguarda il piede e la gamba. Grazie. 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 Grazie.